Cavese vittorioso a Vallo della Lucania, 2-1 risultato finale. Il turno infrasettimanale non spaventa gli aquilotti di Aldo Papagni che portano a casa tre punti agguantati nel recupero del secondo tempo e mantengono così il primato in classifica. Dopo una prima fase di studio è al quinto Desio che tenta dalla distanza ma Conti non si fa trovare impreparato. Due giri di lancetta e la Cavese risponde con variale ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al decimo i padroni di casa si rendono pericolosi con Pecora che a centrocampo prende la palla, passaggio per Torraca che però è troppo precipitoso nella conclusione. Risponde poi la Cavese con Danna che comincia così a scaldare il tiro calciando di poco fuori quindi è variale a tentare di sfondare la difesa vallese ma a caso è bravo a chiudere gli spazi. Il gol del bianco-blu arriva al 35esimo con Danna che con un preciso destro a rientrare batte l'estremo difensore della Gelbison d'Agostino. Applausi per il giocatore Metelliano. Si va negli spogliatoi con la Cavese in vantaggio per 1-0, la reazione dei padroni di casa c'è ed arriva al primo minuto di gara della ripresa. L'azione si sviluppa da calcio d'angolo battuto da Napolitano, un cross su cui arriva Intuffo Giordano che di testa anticipa Manzi. Bisogna poi attendere tutto il secondo tempo per assistere al gol partita che infatti giunge al 92esimo in pieno recupero. Rimessa laterale sulla tre quarti offensiva per la Cavese ad opera di Donna Rumma, un vero e proprio cross prolungato di testa da variale che trova pronto Criniti. Un preciso sinistro dell'argentino che si inzacca alla destra del portiere. Un gol di prima intenzione che regala i tre punti alla Cavese che ora è primatista a 52 punti.